Luigi Crespi è spin doctor, è stato quello che si è inventato il contratto con gli italiani di Silvio Berlusconi oltre a molte altre cose, che giorno è oggi? Oggi è il 18 gennaio come sappiamo, esattamente dieci anni fa ricevevo Silvio Berlusconi al Nazareno quindi Crespi che conosce bene a cosa mi riferisco, il patto del Nazareno compie oggi dieci anni pensate, non è finito bene E pensi che non c'è neanche una foto, non c'è neanche una fotografia di lei Berlusconi C'è, no, due insieme non c'è, quella era iconoclasta Quella era una cosa fantastica, l'unica foto che abbiamo insieme è quella con il Senato quando lui arriva in Senato, adesso nel 2022, io devo dire che non ho mai votato Berlusconi ma a differenza di quelli che gli hanno in qualche modo portato via tutto perché intorno a lui c'era una corte dei miracoli io sono felice di essere stato una persona che non ha mai votato Berlusconi ma l'ha sempre rispettato Velocissimi, Crespi ha scritto per Solferino lo spin doctor, memoria delle mie sette vite più uno allora Luigi Crespi, se facesse lo spin doctor di Renzi cosa gli consiglierebbe per rimettersi al centro della scena? Politica, perché sulle altre scene ci sta Gratis? Sì, gratis Non è che avete visto la dichiarazione di lei e le fatturate tutti Per una questione proprio morale, Renzi per una questione morale, con lei gratis no Bravo, va bene 15 milioni di euro Ha ragione, ha ragione Però le faccio fare un preventivo prima perché non mi fido granché di lei, lo sa che Non si preoccupi, non si preoccupi, che i miei preventivi sono perfetti Allora, diciamo che Renzi è molto bravo, è un buon affabulatore, è capace di interloquire e di ingaggiare le persone Dovrebbe riuscire a fare qualcosa di più intorno a sé, è come se fosse un uomo che parla nel deserto Più va avanti e più c'è deserto Lui è bravo, ma intorno a sé c'è sempre più deserto ed è questo su cui io mi concentrerei Come mai uno così bravo ha tutto questo deserto intorno? Senti Crespi, invece Schlein le conviene candidarsi, come finirebbe il duello, finirà il duello TV con Meloni? Guarda, il tema di fondo è che noi abbiamo un parco elettorale che si sta risgiucendo sempre più La quantità di italiani che va a votare e che si interessa della politica è ormai ridotta sotto il 50% Di questo 50% la Meloni ha l'egemonia quasi assoluta Però non ha quel consenso che hanno avuto altri primi ministri Il tema è che, ti faccio solo un esempio Sui temi dei diritti civili in Italia, sul matrimonio gay, sull'eutanasia Sui diritti census qualche giorno fa, qualche settimana fa Dava dati intorno al 70-75% Su tutti i temi dei diritti civili, quelli classici, diciamo quelli della sinistra La domanda è, come mai il 75% degli italiani più o meno aderisce al matrimonio gay, all'eutanasia A tutti questi temi qua e non vota il Partito Democratico Perché non riconosce nel Partito Democratico quell'ambiente, quel luogo per portare avanti i propri valori, i propri diritti La risposta è perché non sono credibili Perché non sono credibili E quindi la risposta della Ellie, che è stata sicuramente una che ha provato avanti 4 punti in suo partito Questo l'ha ottenuto Oltre a quello non va Perché? Perché ha una competizione interna con Conte Tra i due ci sono due punti e mezzo Le prossime europee stabiliranno chi dei due ha l'egemonia sinistra E se non si candida, lei perde delle chance Si deve candidare Aveva ragione Renzi quando diceva che la Meloni non solo si è scelta l'avversario Ma gli ha dato un grande assist che lei ha colto male Il tema della Ellie qual è? Che dice delle cose meravigliose e riesce a complicarsi la vita in maniera straordinaria Cioè non si capisce quello che dice E soprattutto non si capisce perché lo dice E non si capisce neanche quel risultato che ottiene Più che qualcuno che si occupa dei colori con il quale si veste Dovrebbe occuparsi della capacità che ha di farsi comprendere Allora Non di dire le cose bene Siamo stati un po' brevi ma ci conosciamo da una vita Ti chiedo solo una cosa Lo andresti a fare lo spin doctor di Vannacci? No Neanche per soldi? Neanche per soldi Quindi sei diventato un idealista insomma Ora non esageriamo Lo sei tornato Uno soprattutto Quando sono tornato a una certa età Si ha il lusto di scegliere per chi si lavora E per la Meloni? Ci ho lavorato per la Meloni Lo rifaresti ora? Assolutamente sì Bene Grazie a Luigi Crespi A Renato Manname A Matteo Renzi E subito Grazie a tutti.